ben tornati forse per l'ultima volta siamo qui eeeh tutto ciò che è rimasto da fare ma scusa dall'altra parte indietro non c'è niente niente mi ha guardato già ieri sicuro sicuro non puoi scendere da lì dove dovrei andare a metà alle dune ho già provato ieri ma che memoria hai? e la mia memoria a meno che non hai visto qualche video e sai che si può fare in qualche modo no, non ho visto nessun video e allora amico venghi che bello ok, ho un po' un problema no, no, ho spariato tutto non posso usare questa cosa a due mani troppo niente si, non ne vedo tanto vale che ho lo spadone almeno non c'è il knockback ok perdonate l'errore adesso che voglio fare questa è la figa la sanità è venuta non c'è 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 problematico quella attacca così di... di subitario aaaaaaah mi stava mirando da un'altra parte però no me ne salto no, di vingata no, mi trovo non mi ho ucciso no, ora si ora si eh, anche se non mi uccide non ho più abbastanza pozioni una volta mi hanno preso troppo male per troppe volte quindi mi può anche uccidermi vedrai su cui sto portando c'era una bella presa molto... molto sì io sono curioso di provare quei cest, invece potrebbe funzionare, sai sono molto curioso ah no, ce l'ho allo spazionale che vuoi dire eh, vedi che aveva ragione, Fra ma le armi dei primi uomini sempre il solito c'è questa descrizione dell'altra della simbola ma ci sono dei serpenti sopra o delle radici, non capisco se sono serpenti o radici no, ornamenti ornamenti lentissime però ovviamente troppo bella però troppo bella però troppo bella però troppo bella però sono come le altre tenendo premuto puoi... puoi fiammarle no, 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 puoi fare massimo due attacchi ah, ok beh, il danno lo fanno ma sono troppo lente questo coso 40 di forze c'è, no, più l'altro non rotolo neanche eh belle, belle ah, vedi, c'è anche spada e scudo questo ah, va, questo è di di Riandel è del... del tizio della tomba dei lupi mi son confusa, scusa che adesso non ricordo mai che come si chiama ce l'ho la spada dietro ti raccomando ti raccomando ricordati di più con la tua mano potremmo quantomeno recuperare mana eh ah ah tommoni ah 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Potrei guadagnare qualcosa, forse? Allora, questo non mi pare... mi serva. Non si stumma. Non mi è sembrato, quantomeno. Cioè, non in quello che abbiamo fatto. No. Mi stai facendo muovere tutto il microfono, sappi. Così guadagniamo del danno, floranzia. E altri anelli purtroppo non ne vale la pena. No, infatti. Posso alleggerirmi, tornando alla mia uniforme originale. Oh, tutto nudo. Tanto non sembra faccia attacche di fuoco, quindi... Ok, siamo tornati in quel livello. Un pezzo di carne. Come una saluta. Una sottiletta. Attiro. Attiro anche presso. No, c'è, c'è. No, 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 c'è. E' impossibile evitare tutti e quattro litri quella. Come? Invece. Oh. Che bello. Cioè, questo è veramente... Il pezzo di merda. Ma la palestra si riapre quella cattiva. Sì, sì, adesso la palestra è cattiva. Anche questo è una cattiva. Che bello. Che bello. Che bello. Che bello. Che bello. Che bello. Ah, ok. Ha vinto lui, il trade. Sì. Ma forse la palestra, se gli stai addosso, non la stai. Oh, shit. Che bello come così che tornano. Metta. Oh, mamma. Scusa, voglio averlo toggiato. Mette male. Due forze. Un po' a meno, non si sa. Ok, sono nella merda più profonda. Un po' a meno, non si sa. Un po' a meno. Non si sa. Sarà dura. Sarà dura, sì. Midier 2 è la vendetta. È peggio. Peggio, mi sa. E mi sa che qua schipperemo un po' di try. Faremo vedere da adesso poi il try vincente perché... Sì. Virebbe troppo lungo, quindi... Volevo rientraci, star bene quei tempi. facciamo vedere qualche bestemmia in giro taglieremo anche con la brazo una bella disperazione forte wow è sempre cominciato in un modo e adesso voglio ucciderli ho cambiato totalmente pattern rispetto all'ultima volta rispetto all'ultima rispetto all'ultima rispetto all'ultima Grazie a tutti. Wow. No, questo è il mana. Sprecato il mana. Sprecato. 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 No! Gritti! 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 Tantissimo! Ah! Sto guidando tantissimo! Quanto pulisce però? Cosa stai facendo adesso? Credo che abbiamo visto ormai tutti i butter che potesse fare Oh! 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 Certo che peperò sei tu! Non l'avresti fatto, oh! Oh! Anima di Gaelle No! Guardala! Che sei un'umanità! C'è un occhio! Guardala! Eh! Dark Soul! Quella è una Dark Soul vera! Come non si vedevano mai dal duno! È una vera umanità! È una vera umanità! È una vera umanità! Gael però sapeva di non essere un vero campione! L'anima scura l'avrebbe consumato! Distruggendo ogni speranza di tornare sano e salvo! Quindi lui in realtà l'ha trovata probabilmente l'anima scura in questa... Gli la portava! In questo mondo, in questa città! Sì! Gli la portava al mondo dipinto! Alla ragazzina! Già! Ma non è riuscito perché è stato consumato! Cioè no! Non mi avrebbe attaccato immagino! No! Perché avrebbe dovuto! Perché tu hai comunque umanità! Sangue dell'anima scura! Ecco! Lo squarcio! Questo ce l'aveva addosso! Sì! Come anche il tizio mi sa! Quello che strisciava! La signora potrà usarlo per dipingere il nuovo mondo! E se io vado da lei? Quando Gael giunse a scolperto dei signori dei pigments scoprì che il loro sangue si era ormai seccato e decide di consumarne l'anima oscura! Quindi lui di fatto l'ha fatto! Non penso ci sia... I pigments dovrebbero essere i diretti discendenti del nano scuro! Ma non sono scuro! Ma non sono scuro! Non mi pare ci sia molto da esplorare in questo deserto! Troppo d'esolazione! E cosa c'entra figlio? Non capisco! Sono molto confusa! Sono molto molto confusa! Non c'è assolutamente nulla! Quello sotto è qua? Sì! Più o meno ho guardato tutto e non c'è assolutamente niente! Io proporrei una tappa per livellare e passiamo! Prima di chiudere! Dalla ragazzina! Dalla sua signora! Sì! Non c'era niente di nuovo nel santuario, giusto? Dall'impisi nuovi... No, possiamo solo vedere al massimo cosa si fa con le armi, ma insomma non... ARIANDEL Era questo Questo è il cumulo di rifiuti Questo è ancora il di ADC Sì, sono due posti Veramente grandi Era A cappella Sulle scale della cappella di ARIANDEL Io penso Però se ce l'hanno nessun video Secondo me c'è ancora qualcosa Qua ha preso tutto fuoco No, no, no Assolutamente non c'era nessun tipo di fuoco Scusi, fila di Priscilla Lei è ancora lì Offri Cosa ti dimenti Perchè, farò Perchè, farò Perchè, farò Come dobbiamo Perchè, farò Perchè, farò Perchè Perchè un po' gentile e un giorno farà a qualcuno una buona casa sta bruciando tutto da riserva no, non credo da un'età spero che il nuovo painting sarà per lui una gentile casa miei grazie sarò sicuro per un giorno si vuole provare ma non c'è nulla che si guarda qua guarda qua qualcosa c'è c'è un altro c'è un altro polvo mi piace perla questo l'ho letto oh qua c'è una strada sto morendo scusate in un'arena o meglio credo che qua è dove siamo caduti all'inizio non 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 l'jung è dunque il duca il duca che conosco è qui Anche io Discendente dei Jedi Quindi Ha un martello Ecco Bambino Eccolo Oh Oh, finirà il primo cuore. Cattiva. Conosciamo dei pazzi? Quella che t'ava dato la qualsiasi di uccidere. La weapon art... L'inquieta. Sì. Ah, è questa. È una danza. Non sembrava che è una danza. Questi sono... Non mali movesetti di una danza. Ok, penso che vada usata in questo. No? Qua, 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 qua. Ma cosa è strana questa lanza? Perché realmente il cadavere deve pazzo addosso. Cioè, questo è un buff. Il primo hit è un buff. Cioè, d'altro sti suoni... Se continui fai l'esplosione dietro. Che arma strana. I suoni sono del cadavere, tra l'altro. Che se ti so così... Ti viene pure l'oggettivo dietro. Che poi è solo da. Penso faccia danni d'oscurità a tutti, non solo a te. Sì. Ovviamente. Ok, io sapevo che c'era quest'altra... Gli NPC. Poi basta. Però strano, niente video, niente di particolare. È vero che abbiamo missato un... Un NPC sicuramente l'abbiamo missato. Quello che c'era all'inizio. Però... Direi che... Questa volta, veramente... Abbiamo visto tutto. E... Da questo bellissimo DLC... Purtroppo... Lo continuiamo volentieri. Però... È finito. È finito tutto Dark Souls. È finito Dark Souls. E io non c'ho ancora capito niente. Che peccato. E vabbè. Grazie per averci seguito. E alla prossima. Grazie.